musica 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 quel è il valkyrie che tira fuori la cam la pokeball secondo me e agli bb sta facendo cinta musica potrà anche l'arte si perchè è fermo si ma guarda noi andiamo la a distruggirli davvero non ti dà sai tu che ci sta andando vedi hai visto che ho si che in realtà è falsa e allora me l'ho succhiato tutto musica 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 da quando Ma dov'è non fare un cazzo? Vabbè, tu hai preso solo l'obiettivo, eh? Sì, poi c'è il camera che... Non l'ho capito... Magari ti stai facendo... Sì, ma le forciate in bomba... Perché non mi si è letto sotto? A Rossi ci sta scaricando Rainbow e anche Paolo... Quindi giocheremo in libera! A Rossi ci mette ancora 5 ore, a Paolo 37... Ma perché così tanto? Paolo là... Che li va tipo a un kilobyte... Siete, proprio scarsi... Ma sono già entrati! Ma sono già entrati! Ma sono già entrati! A destra! A destra! Chilla, va, chilla, va, chilla, va, chilla! Cos'è da adesso? Schettino di merda! Come va, come va, come va, come va... Sai già? Mi sono più abituato a non abbassarmi finito... No, ma ne puoi riprendere i vonti di Avevo la città! Ma ne ho vant'izzontellata! Ciao, dueppe pulso dietro! Ma che... quel pompa... Ma ci ho stato quel pompa! come mica stava frate cazzo avrei già pushato mi volevano fare male mi sanno per far male, è diversa la cosa da tante parti no in realtà da non vi ricordo il nome dove cazzo sei entrato a te prima con iq ah si comunque su maveri che hai visto che chi l'ho fatto come gli ho trascinato ok non so l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto No, 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 no. No, 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 no. bravo salvo, arrivo da terra, arrivo da terra, mi muore stavo per morire te lo giuro, 24 kills va gnocchio mira è statissimo mira non muore mira non muore bravo ma cos'è? sei serio? c'è uno qua vero? si adesso non lo so no no aspetta vai cosa? adesso tu mi spieghi quando si è spostato nooo che è che ha quitato? nooo cazzo stiamo in porto qualche cosa penso ben perso si ma mi chiamano in modi assurdi veramente assurdi non ho idea c'è c'è non ti faccio lasciar play solo perché se no riusci dalla partita a te si ma mi ha tirato un colpo e che che me l'ha tirato poi quella sembrava l'arma di platino 1 platino 2 tutti e due e praticamente sempre dopo che siamo arrivati a quel grado ehm mettiamo un sacco di parte di te e scendiamo un po' davanti ok lo spot di mark funziona veramente ok 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 Se tu mi avrei piaciuto dire, no, no, il platino è per me, sì, sì, forse. Non sei vero che io non direi mai questa cosa? Sì, lo so, però, è vero che ci stai chiedendo questa cosa? Sì, è vera, però non la direi mai. Sì, è vero che ci stai chiedendo, è vero che ci stai chiedendo. Eh, ma, a trovarlo. Sì, ce l'avevo a fianco. Bomba piccola, uno. Viagra il bomba piccola. Ok. C'è il bomba. C'è l'obiettivo. No, che ce l'ho fatto? Salva il bomba. Lo so, il bomba. Bomba, l'antra, 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 l'antra. E' dietro il divano, la destra. E' dietro il divano, la destra. Te lo giuro, te lo giuro, ho tirato un colpo. Un colpo, guarda. Un colpo ho tirato, l'ho preso con un colpo. E' questa l'ho clicpata, questo casco è un video. Saluta, fraccio. Ciao, io, bomba. Siamo fortissimi. Siamo fortissimi.